Marco Pannella a Teramo vuole parlare dei diritti dei detenuti e protestare per l'esclusione di Rita Bernardini dalla candidatura garante. Poi arriva la notizia del suicidio a Castronio di Giovanni Grieco e lui si altera quando gli si chiede un commento perché ormai un suicidio in carcere per Pannella è una non notizia. Stamattina quando sono arrivato e mi dovevate chiedere qualcosa di notizia. Io non vi ho risposto perché ho detto ma che notizia è? Dice Castronio si è suicidato uno o lei che ne pensa? Non è. Io sono giornalista pure io. Venimmo a chiedere a me che ne penso di quello che è stato assassinato dal regime italiano come tanti altri eccetera. Io penso che forse non facciamo male o grazie ai contratti che abbiamo e non abbiamo a essere oggi qua assieme a parlare un poco di queste cose. Dico ma guarda sti scemi, sti cretini, sti imbecilli. No guarda questa gente ma guarda questi che ci rappresentano. Guarda non solo la occasione Bernardini ma sto qua per cercare sicuramente di impedire ci riusciamo perché quando io vado nelle carceri chi c'è venuta con me? Qualche volta dice io in genere a certo punto subito alzo la voce e insulto. Chi insulto? Quelli che sono scoraggiati e mi dicono ma no e io gli dico cretino. L'annuncio che il leader radicale vuole fare nella sua città riguarda comunque la lotta per i diritti civili portata avanti da lui con l'ennesimo sciopero della fame e della sete che approderà davanti al Consiglio delle Nazioni Unite. Lui ne è certo perché gli è stato garantito. Ce la faremo all'ONU innanzitutto a che sia dedicata la sessione lì soprattutto a quello che noi chiediamo. Che cosa? La transizione dagli stati di oggi in grande maggioranza agli stati di diritto. Ecco a terra lo sto per questo. Torno a dire siamo in una situazione nella quale la notizia di Castrogno non notizia è come un tumore per ciascuno di noi di qua. Non ti accorgi che stai male, non lo senti eccetera ma continuamente senti qualcosa che no sta roba deve finire. Pannella nell'incontro di questa mattina va comunque come al solito a ruota libera e non manca neppure l'ormai solito messaggio per Papa Francesco considerato ormai come un vecchio amico. dice e mi ha detto a me, ma ha scritto e poi l'hanno detto che me l'hanno scritto sii coraggioso e io dico come no? Certo. E ora devo dire dinanzi a quello che gli accade attorno non c'è da sorprendersi a Papa Francesco sii coraggioso perché hai ragione perché rappresenti le ragioni della civiltà del mondo di questo.